Radio GBR presenta Il Quiz Programma di curiosità, canzoni e premi con il concorso degli ascoltatori presentato da Giorgio Alberini Avete ascoltato Happy Days, revival di canzoni del passato a cura di Giorgio Alberini Il programma vi è stato gentilmente offerto dal Piccolo Bar di Ermete e Lilia Ricchi, Piazza della Repubblica Guastalla Avete ascoltato Happy Days, un programma di revival presentato da Giorgio Alberini Grazie a tutti 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 Grazie a tutti